Ciao, oggi vorrei mostrarvi il Gateway LoRaWAN UG65 di Milesight. Un Gateway conveniente e potente. Stanco di vedere il disegno grezzo in stile industriale? Che ne dici di UG65? Il design dell'Outlook di UG65 è accattivante, giusto? Oltre all'aspetto elegante, UG65 è dotato di SOC quad-core da 1,5 GHz, RAM da 512 MB e memoria flash da 8 GB. Inoltre, la nuova generazione di LoRaChip SX-1302 ha potenziato UG65 con capacità elevate. Ora, UG65 può supportare la ricezione e la trasmissione dei dati simultaneamente e gestire una maggiore quantità di traffico con un consumo energetico inferiore. Supporta anche la frequenza globale LoRaWAN. Con una capacità di penetrazione profonda, UG65 copre un raggio di 2 km in area urbana, supportando fino a 2.000 nodi finali tramite 8 canali. UG65 ha un server di rete integrato ed è compatibile con più piattaforme di server network come TTN e ChirpStack. UG65 funziona completamente con IoT Cloud di Milesight per una facile implementazione, gestione e configurazione su PC o telefono mobile. Rimane connesso tramite Ethernet, cellulare e Wi-Fi. La plastica di livello industriale e la custodia con un grado di protezione IP65 garantiscono l'affidabilità dell'UG65 in ambienti difficili. UG65 offre un'installazione flessibile per varie applicazioni. Il design moderno e pulito lo rende perfetto per applicazioni come ufficio intelligente, centro commerciale intelligente, edificio intelligente e molti altri scenari. UG65, la tua scelta elegante per le applicazioni IoT. Volete saperne di più? Non esitate a contattarci.